Quattro cani e varie telecamere proteggono un giro di spaccio casalingo. Erano questi gli accorgimenti di uno spacciatore che aveva dato vita a una florida vendita di marijuana nel suo appartamento a Val della Torre. I carabinieri della compagnia di Rivoli, in collaborazione con i colleghi dei forestali intervenuti per la probabile presenza di cani all'interno della casa, hanno bussato alla porta dell'uomo con un decreto di perquisizione allo scopo di verificare la regolarità dell'impianto di sorveglianza, ma l'obiettivo dei militari era un altro, entrare nel fortino della droga. Il proprietario, un uomo di 25 anni con piccoli precedenti penali, teneva in casa tre pitbull e un jack russell per proteggere la sua attività illegale e forse anche per intimorire gli acquirenti a cui probabilmente vendeva le dosi. Quando i carabinieri hanno bussato alla porta, l'uomo ha parto senza alcun problema, ma i suoi cani hanno impedito l'accesso ai militari in casa. Dopo una breve trattativa, il proprietario ha messo in sicurezza gli animali e i carabinieri hanno iniziato la perquisizione. Nell'appartamento hanno trovato quasi 12 kg di marijuana, bilancini e bustini in celofan atti al confezionamento della droga. Nella stanza da letto i carabinieri hanno poi trovato anche una pistola. L'uomo è stato arrestato.